salve amici e amiche oggi vi propongo una traduzione dal sito di institute of war aggiornato al 12 luglio 2024 per quanto riguarda la situazione del conflitto in ucraina dopo averlo tradotto poi mi dedicherò a fornirvi alcuni aggiornamenti sulla mappa e alcune considerazioni che mi avete chiesto nei commenti e che riguardano essenzialmente l'utilizzo delle bombe prananti da parte russa e in particolare quelle da 3 tonnellate di cui probabilmente avrete sentito parlare come sempre cari amici grazie per il vostro sostegno e incoraggiamento e solo grazie al vostro ai vostri like e le iscrizioni che posso andare avanti quindi se volete sostenermi qui sotto ci sono tutte le funzioni di youtube per farlo iniziamo come anticipato questo è the institute of war l'istituto per gli studi sulla guerra è un'organizzazione americana di ricerca sulle politiche pubbliche a partitica e senza scopo di lucro questo articolo è stato redatto a cura di riley bailey angelica e once grace mappes christina harworth e frederick w kagan datato il 12 luglio 2024 secondo quanto riferito funzionari occidentali e statunitensi valutano che le forze ucraine continueranno a stare sulla difensiva per i prossimi sei mesi e non saranno in grado di condurre un'operazione di controffensiva su larga scala fino al 2025 le forze ucraine stanno già tentando di contestare l'iniziativa tattica con contrattacchi limitati in settori selezionati del fronte tuttavia le forze ucraine potrebbero essere in grado di condurre operazioni controffensive limitate anche se in gran parte sulla difensiva a seconda dell'arrivo degli aiuti occidentali un altro funzionario della difesa statunitense ha dichiarato che le forze ucraine rimarranno sulla difensiva per i prossimi sei mesi fino al 2025 e che difficilmente le forze russe guadagneranno terreno in modo significativo durante questo periodo è improbabile che le forze russe ottengano guadagni operativamente significativi in ucraina e l'articolata teoria della vittoria del presidente russo vladimir putin mira a far sì che le forze russe compiano progressi graduali e striscianti invece di perseguire manovre rapide e operativamente significative l'ucraina sta attualmente affrontando le sue sfide in termini di mano d'opera e formando diverse nuove brigate e la fornitura di armi ed aiuti necessaria per equipaggiare queste brigate determinerà quando e su quale scala l'ucraina potrà lanciare la sua controffensiva già da mesi l'arrivo in prima linea degli aiuti forniti dall'occidente e le autorizzazioni ad impiegarli per attacchi in profondità nel territorio russo ha consentito alle forze ucraine di stabilizzare le aree critiche del fronte con contrattacchi strategici tatticamente significativi nei centri di comando nei depositi di munizioni e nelle infrastrutture russe le forze ucraine saranno probabilmente in grado di intensificare sia la portata che la regolarità dei contrattacchi nei prossimi mesi man mano che ulteriore assistenza occidentale sarà disponibile le forze russe stanno attualmente tentando di mantenere una pressione offensiva costante sull'ucraina per impegnare i suoi uomini e materiali in operazioni difensive impedendogli così di accumulare queste risorse per operazioni di controffensiva le forze russe stanno tentando di ottenere questo effetto attraverso operazioni offensive e coerenti in tutta l'ucraina orientale e nord orientale che mettono a dura prova le forze ucraine ciò nonostante le forze ucraine stanno sfruttando le proprie capacità di colpire con droni e sfruttando le vulnerabilità russe per condurre contrattacchi tattici uscire dall'attuale guerra di posizione in ucraina è un compito impegnativo sia per le forze russe che per quelle ucraine le operazioni strategiche condotte con droni e la distruzione sistematica di mezzi e uomini inviati avanti da parte russa ha avuto comunque l'effetto sperato di ridurre la pressione e limitare le risorse disponibili russe l'assistenza occidentale rimane l'unica strada probabile per ridurre l'attuale impegno di putin nel distruggere lo stato e l'identità ucraina indipendentemente dal tempo o dal costo tuttavia queste operazioni ucraine non devono necessariamente essere iniziative individuali e distinte su larga scala ma possono invece essere una serie di operazioni controoffensive nel corso della fine del 2024 e per tutto il 2025 e questo è quanto il cremlino nel frattempo continua a intensificare gli sforzi per la censura informatica anton nemkin membro del comitato per la politica dell'informazione della duma di stato russa ha dichiarato l'11 luglio che il censore federale russo rosman roscomandor reprimerà gli utenti che si registrano con account anonimi sui social media forzando le applicazioni tra cui telegram e whatsapp a richiedere numeri di telefono per registrare un account e per impedire ai russi di registrarsi utilizzando carte sim del mercato nero nemkin ha dichiarato che lavorerà specificatamente con telegram e whatsapp per richiedere ai canali con un pubblico giornaliero di oltre mille persone di fornire informazioni di identità dei loro utenti al governo il quotidiano dell'opposizione russa astra ha dichiarato che il ministero della giustizia russo ha delegato due imputati in un caso di estorsione per questi ruoli di censura e che coinvolge l'oligarca russo aliser umanov il cremlino probabilmente intende punire questi canali che cercano di nascondersi dietro account anonimi di telegram per diffondere critiche o voci sul cremlino e restare impuniti le autorità russe stanno inoltre limitando la velocità di accesso degli utenti ad alcuni siti di social media occidentali probabilmente per scoraggiare l'uso di questi siti prima di possibili divieti nazionali nemkin ha dichiarato che roscomanzor non sta attualmente valutando la possibilità di bloccare whatsapp come ha fatto con altri siti di social media occidentali ma ha osservato che la russia sta applicando misure tecnologiche come rallentamenti in particolare nella repubblica del daghestan il più grande operatore di telecomunicazioni russo rostolecom ha dichiarato il 12 luglio che i russi potrebbero riscontrare tempi di caricamento molto lenti e una bassa risoluzione video quando accedono a youtube indipendentemente dall'operatore di telecomunicazioni a causa della mancanza di server che ospitano contenuti in russia la fonte delle telecomunicazioni russe ha invece affermato che le autorità russe hanno iniziato deliberatamente a rallentare la velocità di accesso degli utenti a youtube in russia il quotidiano russo gazeta ha riferito che la russia sta valutando la possibilità di bloccare youtube nel settembre 2024 ma il portavoce del cremlino dimitri peskov ha negato tali notizie bene questa è la situazione come riportato dal sito che se volete dargli un'occhiata vi linko l'indirizzo in descrizione le immagini che vi ho mostrato mentre leggevo queste ultime notizie sulla censura in russia le ho prese dal film 1984 tratto dall'omonimo libro di george orwell e penso che sia abbastanza appropriato ma per tornare alle notizie del conflitto in generale possiamo dire che quanto viene detto è in linea con quello che viene riferito anche da tutti i maggiori organi di stampa internazionali la situazione non è certamente facile ma mi trovo piuttosto d'accordo sul fatto che è solo una questione di tempo prima che i russi perdano lo slancio e cercheranno di trasformare la loro lenta avanzata in una guerra di posizione tutto questo si verificherà nei prossimi mesi e l'aiuto delle forniture per i reparti di terra l'artiglieria e l'aviazione gli scudi missilistici all'ucraina renderà piuttosto difficile continuare a insistere per la russia che in questo momento è lanciata in una economia di guerra con perdite insostenibili sia di uomini che di mezzi da parte loro in ogni caso continuano gli attacchi aerei con le cosiddette bombe fab modificate con le ali per permettergli maggiore gittata questi attacchi non sono di precisione questi ordigni non sono molto diversi da quelli utilizzati nella seconda guerra mondiale si parla quando si parla di fab si parla proprio di bombe a caduta libera senza alcun sistema di guida ma il loro impatto psicologico sulle forze di terra ucraine è devastante molto di più della contraerea queste bombe infatti arrivano e colpiscono senza alcun preavviso in villaggi e in aree molto grandi letteralmente a caso radendo al suolo gli edifici con una capacità di distruzione molto maggiore di quella dell'artiglieria nella zona di new york dove si delineano le battaglie dei prossimi giorni diversi raid hanno fatto piovere bombe di questo tipo e fra l'altro anche una bomba fab 3000 è stata sganciata in centro città nell'area dove era presente il centro di comando ucraino ora questa bomba non è una bomba tecnologica è semplicemente una grossa bomba che ha il peso di tre tonnellate quindi ha un'enorme capacità distruttiva ma non è una bomba penetrante è semplicemente una bomba che distrugge ad area né più né meno nel frattempo i reparti ucraini con i loro droni sono riusciti a distruggere un'altra postazione s 300 in questi giorni è un sa 15 tor più un sistema book sa 6 questi due sono estremamente importanti per la difesa di punto russo soprattutto il sa 15 cosiddetto tor sono unità molto costose di difficile sostituzione e anche prima della guerra la russia comunque non aveva così tanti senza i sa 15 gli scudi missilistici ad ampio raggio sono completamente vulnerabili e questo risultato strategico è molto importante da parte ucraina proprio per stendere le basi di un confronto aereo imminente con lo schieramento degli f16 sulla linea di confine se questi aerei infatti riusciranno a svolgere il loro ruolo di caccia intercettori con i loro missili attivi per i bombardieri russi che impunemente sganciano le bombe sulle città potrebbe essere davvero una brutta sorpresa è un po lo spero il missile ariaria aim 120 b o c in questa situazione non lascerebbe scampo ai bombardieri russi che sono del tutto scoperti e privi di difese per questi sistemi d'arma di conseguenza i russi per poter continuare a portare avanti questi attacchi sui villaggi e le città ucraine con queste bombe saranno costretti a impiegare la loro caccia di scorta per una tipologia di missione che viene definita bar cap che è un po un acronimo che significa copertura aerea di sbarramento questo almeno detto all'occidentale per quello che è un ruolo tipico di f15 ed f16 ed f18 in realtà quindi in molti in questo momento non vedono l'ora di vedere gli f16 in azione soprattutto perché le f16 può occupaggiarsi solo con missili attivi questo è un bel vantaggio rispetto alla stragrande maggioranza dei missili semi attivi che vengono usati dai cacciarussi sulla carta insomma almeno in teoria un centinaio di f16 potrebbero infliggere molti danni in aria aria specialmente come ho detto contro i grossi bombardieri dell'era sovietica che non hanno nessuna difesa contro questi missili che ho citato anche i migliori caccia di fabbricazione russa come il mig 29 il su 30 e su 27 non sono all'altezza di un f16 e dei suoi missili attivi detto francamente e prima che qualcuno scriva nei commenti amenità che rasentano la tifoseria calcistica per la tecnologia russa bisogna ricordare che l'aviazione russa tecnologicamente e storicamente dalla guerra fredda fino ad oggi si è sviluppata attorno al concetto di difesa non di attacco con questi grandi aerei ad ampia autonomia e che equipaggiati con missili semi attivi che rappresentano anche un modo piuttosto datato di affrontare la guerra aerea almeno nel 2024 l'ingresso sulla scena degli f16 sulla cosiddetta feba che è un po' un termine militare per definire la zona di attrito o di confine potrebbe facilmente far cessare questi raid ignobili contro le città ucraine condotti con le bombe plananti o almeno limitarli di molto sulle capacità delle f16 fra l'altro ho già dedicato un video che vi passo in descrizione per cui non illudiamoci che la guerra aerea sia come un videogioco o un film di hollywood a suon di missili e tanto manico ragionevolmente l'f16 dovrebbe essere impiegato in modo molto intelligente grazie soprattutto alle sue capacità di distruggere le difese missilistiche di portare attacchi di precisione su infrastrutture e un'enorme varietà di armamenti tecnologici e dedicati per la distruzione di mezzi e obiettivi strategici ma resta il fatto che in un confronto aereo a muso duro contro la caccia della vks sarebbe assolutamente in grado di dire la sua e fare molto male è un dettaglio non meno importante è che questi f16 saranno completamente integrati con il cosiddetto sistema link 16 di tutto l'apparato di intelligence occidentale che viene fornito in tempo reale dai radar a terra e dagli awaks in volo che sono in volo appunto 24 ore su 24 nel teatro e che potrà fornire una cosiddetta picture molto ben accurata di quello che accade ai piloti ai piloti ucraini per una consapevolezza spaziale e situazionale che non hanno mai avuto con i loro vecchi mig 29 e su 27 non è un segreto infatti che le preoccupazioni russe sull'arrivo delle f16 sono concrete ed evidenti da parte loro è molto probabile che concentreranno i loro sforzi su individuarli e distruggerli quando saranno al suolo più che in aria in questa direzione si stanno già muovendo da un po di tempo con l'intensificarsi dei loro voli con i droni da ricognizione che possono individuare e assistere la guida laser di bombe guidate sui bersagli parcheggiati negli aeroporti qualche giorno fa con questa modalità i russi sono riusciti a distruggere proprio un su 27 e un su 25 ucraino al suolo quindi è molto probabile che gli sforzi ucraini si concentreranno nel rendere gli f16 quanto più elusivi possibile con rotazioni continue sulle basi posizioni molto retrate e in profondità e più al sicuro possibile dagli attacchi missilistici russi potendo contare fra l'altro su una rete logistica occidentale già pronta per loro per eventuali divert su altre basi disponibili e rifornimenti in volo nel frattempo atterra l'avanzata russa nel teatro continua e la sua pressione nell'area a sud ovest ha raggiunto la città di new york come potete vedere in questo settore i reparti ucraini hanno appena effettuato una rotazione di avvicendamento e stanno facendo il possibile per rallentare il nemico lo stesso avviene pochi chilometri più a est nei pressi di vozi sgrà con i russi che cercano ormai da mesi di raggiungere lo snodo stradale più avanti che ha un'importanza strategica fondamentale per la logistica ucraina chassiviar è l'altra città che è interessata da scontri incessanti ormai da mesi con i russi che provano a spingere ma le fortificazioni degli ucraini lungo il fiume rendono molto difficile per loro fare progressi come ho già espresso in altri miei video e da come si evince anche dall'articolo dell'istituto di ricerca sulla guerra in alcune aree gli ucraini stanno riuscendo anche a guadagnare posizioni per esempio a nord con voi chass che è stata praticamente liberata ci sono le immagini dei soldati ucraini sui tetti che sventano sventolano la loro bandiera restano solo delle sacche isolate di soldati russi intrappolati poco più a est pochi chilometri più a est a nord di lipsi dove l'esercito ucraino ha condotto una delle operazioni di maggiore successo degli ultimi mesi riuscendo a contrastare l'azione russa iniziata l'11 maggio con l'african corps e il 380esimo reggimento motorizzato gli ucraini sono riusciti a infliggere perdite devastanti e costringendone la ritirata in quest'area le forze ucraine ottengono i progressi in modo più costante e continuo ed è possibile che riusciranno a riportare i russi entro i loro confini nei prossimi giorni e questo è tutto per oggi quindi come sempre fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e vi ringrazio per il vostro supporto un abbraccio alla prossima